Gli smuo viventi Vabbè dai è un buon inizio Eh, aspetta 7-8, ah stanno già andando? Poi è schermo nero Sì perché non si vede allo da OBS Sì invece, fra Da OBS Eh sì, ha funzionato prima Ho capito Adesso provatano le tuoi BBS e vedi che ti è ritornato Ah sì ora Però lo dico da YouTube, non vedo qua È tutto schermo nero su YouTube T'ho detto, c'è un bel po' di buffering Ci mette un po' prima che Si aggiorna Ah però si vede intanto nella live degli altri Aspetta un attimo che ritorno E te lo dico subito Sto muovendo la freccettina quindi Sì sì Fugge? Dammi un attimo che adesso arriva Forse il momento in cui si muove la freccettina Sì sì muove Eh sì fa Ok Sì 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 Ok allora Bella raga Siamo tornati qui di nuovo Perché c'era un casino Prima e Siamo stare Eh sì Che cagata Eh ho modificato l'impostazione Che dovrebbe permettermi di non Far fare i pompini a sto gioco Bellissimo tra l'altro Quindi sì Zap zap Dio palene Zappiamo la terra Ok Io ti direi di staccare quella di Discord Ah Shipsharro 3 Che c'era un'altra Che c'era un'altra Che c'era un'altra Sì po pesante per la cpu per cui ora ma non troppo poco schema girando molto bene come si sia sopportabile poi il lag talvolta e anche per tipo che adesso quando ai ship shark siccome questo con la la diciamo un netcode veramente deplorevole ma fa veramente schifo molto spesso può capitare che siccome la g1 laggano tutti no cose così per il perché usa molto spesso pier to pier non testa di cazzo stavo per staccare succhione vabbè così il giornalo non esiste comunque signori mi sentite di merda perché il microfono non è benico anche forse perché adesso sono più vicino alla webcam perché se no vi toccava sentire il mio audio perché sto coglione di windows ovviamente metto l'audio dal microfono della scheda madre si sente l'audio mio e siccome non è molto preferibile ecco ok ok sweep fear walla 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 ring 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 scappi bambino scappi bambino capi osso la c'è lì a bastardo cine cine e rai era un momento culturale si su e wow piaw piaw prendi un po il pisello odio swiffer ma aspetta cosa fare bella ma non si è sentito il rumore della ricarica brrr ma che cazzo ho ricaricato l'arma e non si è sentito il rumore ora si ma perché cazzo prima no vabbè tanto devo cambiare pc lo sai vabbè vabbè oh bastardo il bambinetto uno del lago ai pesi mia pazzita quanti sono che i sette 05 che figata con la lama rossa perché tra tutto il caso dell'arma le armi sono casuali c'è anche la la c'ero l'arma non chiama infected vabbè l'ama in per n нав è un po difficile però con questo mini lag però vedi vedi silent shadow be like silenzial oh nice mmm un esplosio ma è un esplosio no che zingarata dio fa legname che caga però secondo il suo anno in fine ci sarà la la silent shadow non mi ricordo la silent shadow non ricordo cos'era gruppo di elite super addestrati per essere assassini tipo come gli spartano degli elite ma gli è data degli elite i che chi è da si chi è da si chi è da anche anche tipo erano nooo c'è la notte è una dante è appunto era anche cosa emil no 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 è june oh fermi coglioni june e loc loc però era dell'oni ma però era comunque un cacciatore di codi di testa anche lui è boh fra non so ma erano cioè oddio mi hai tirato discorso che ora non ricordo erano un gruppo erano staccati dai covenant giusto all'inizio erano parte dei cover erano parte dei covenant ed erano divisi in varie squadre poi però dopo la fine di un gruppo ad volevo chiedere tutti però la fine di unice banish allora si allora forse si ma che sono infiniti nemico al banish quindi robes allora mh ah ching chon f ching chon ching chon ching chon perchè l'elite di merda quando lo becco in testa non muore dio campo col cazzo gli scudi degli elite? no io lo colpisco in testa dovrebbe morire istantaneamente come per cazzo non c'entra un cazzo coglione è buggato il eh tutto l'elite è buggato quando lo spari in testa non muore qua vabbè ecco uno drainava lo scudo oddiospe oh c'è il brutto che è strano è tipo lucidissimo che cazzo vabbè eh oddio vabbè facciamo così oh let's fucking go bella andiamo proviamo questa modalità però su quella mia qua nella neve con le torrette che vuoi dire un cazzo di aereo che passa vicino a casa mia quindi si sentite casino eh eh ecco cos'era mh l'ho trovato allo giù l'ho visto il as è caduto ma no la squadra perché quando ti suicidi tipo per una pil Lo so, è che non vedo come fasse di sotto Ah, i G... Jesus Christ volevo dire C'ero quasi Vabbè No, mi stavo grattando Ma grattati Oh, Dio nado Mi sono caduto giù, vaffanculo E vabbè, però con le armi normali Siete tipo già morti Oh, che spaz Ma cosa? Che ho colpito, Dio zingaro Ma che cazzo Vabbè Bene Oh, shit Shit, shit Shit, shit E' la variante E' l'ora deve stemmiare Oh, oh, oh No, ti stavo staccando Zingaro Zingaro il bambino Oddio Oddio Uuuuuh Blowjub Blowjob amilkathos Blowjob amilkathos Blowjub Soltone Dio friarello Allora Eh, te pareva You little giz Ok, fra Un little giz E' la parola cinese E' la parola cinese C'è la Perfetto Non me l'hai attaccata No, però ti era tirata davanti E tu non l'hai vista E si è splosso No, sì, che l'ho vista Ma io l'avevo superata Non so perché cazzo da questo gioco Swipsy arrow Giazz Ah, blowjob amelo Blowjob gamelo tutto Tom Delu non muori come cazzo la lancia la granata all'elite l'ho visto dopo la vista o chi non sei morto no no figlio di tuo figlio figlio di tuo figlio figlio di tuo padre e se lo dico ho sbagliato massa turbata madonna io che spavento 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 sei morto spavento 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 Oddio, nameciano Oddio, si vabbè, da sotto il mu- ah ma si Maggato, oddio, guardalo Vabbè, tanto ho vinto io Sì, ma stiamo andando molto meglio Sì, perché avete le armi random, ma adesso le tolgo No Sì Ora ne facciamo una senza le armi random No, facciamo una con le armi random, però su quella mappa Della neve Non c'entra un cazzo la mappa No, voglio farlo su quella mappa della neve Quale? Lockdown? O Lockout? Come cazzo si chiama? Non mi ricordo come... no, no, sigillatura Fai delle mappe Era Dialoo 2 Eh, questa qua, coglione No, no, è un'altra È questa qua, deficiente, guarda Non dico questa È un'altra mappa con la neve Non è quella in alto? No Era una colletturetta intorno Come con le torrette intorno È una piccola Non era con la sabbia? Quella di Allo 3, coglione Ah Ah, mi sa che è di Allo 3 allora Eh sì Che folla Che F parola sto bambino di merda Ok Ok Lug iniziale Ok Adesso Facciamo senza armi random Così vediamo Chi è il Nick Che schifo il pompa qua Ho visto il replay adesso E tipo eravate vicinissime E non siete morti Stando che cagata Dio Vabbè Ho preso una cosa di Oh, ma basta Sti brizzini Dio cunca Vabbè raga Porco Dio però Oh Si è raffrizzato il gioco Ma Boh vabbè Devo cambiare sto pc Meno male Bene tra Dio cunca Oh Yankee with no Bred no F Eh Vabbè Eh vabbè Mi serviva questo Grazie Oh Bello Oh Il microfono Non si sapeva Non si sa mai Perché prima L'ho mutato Oh Oh Shishar Ehm Mo Che cosa c'è adesso? Hier Hier Eh Mi toglie Oh Fascismo Brutto Molto 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 Figlio Dico Sì Ma Come ho fatto Lo Brand Devo io Giumpavo E Noi Giumpavamo Si è scoperto che sia stato giumpato Giurano Jumper F Ancola Gio Un culo Giornale Sì Altua Giornale Giovanna Di sensibilizzazione Sensibilizzazione Per Un culo Giornale F Per Giornale Sono passato Attraverso Il muro Anche Giornale E Un meme Cioè Non ci riferiamo A master C No Lo dico Anche qua Perché Magari Ci sono Magari C'è Gente Che Guarda Sta roba Che non ha visto il tuo canale Lore Oddio Oh da foco Lola Hijo De tu hijo Ok ci sta Yeah Un bambino Napoletano Di nome Gabri Ma non sono Di nato Eh Peggio No È Dalla sezione Litoranea Del lido Di Di Dio Fia Eh Ecco Arrivo Se vuole G Parola Cosa Mi Rageback No Mi Staccato GG No Che Parca Di quella Pucca Niente Vabbè Vabbè Ma che cazzo Ti è caduto Ti è caduto non c'è un gatto non c'è un gatto che c***o ne spavate in tuffa ah non è un gatto oh che bel vento fresco si finalmente ma basta sei un ricchio beh che dire fra fai i pompini e i calamari 0 punti per accuratezza shut up you failure 5 minutes to the hour of cocksucking se lo metti prendi avvantaggio guardare le live no no lo stai guardando prima quindi non ti pensare non ti pensare attenzione vabbè si dice qua così sì vabbè il figlio di buttare la fk e arriva lì ma che c***o è no mo ti butti giù però si si deve buttare giù per perdere la kill perché non me ne frega un c***o la fk il figlio di c***o buttati giù qualcuno di voi due si deve buttare giù ah non io sicuramente non io non io Ho ucciso anche Gab? Sì Vabbè tanto si è un fallito Gab Uccidere facendo finta di essere fk gg Forse ho capito Fino a schifare quella qui il cam Sta merdata guarda Fanculo coglione Bello Quali i campionati da star Succhia coglione Così impari a fare le fk kill finte LOL LOL Ero mutato fino a mo Non mi dire Comunque tu fai le kill mentre sono fk No ti ho aspettato finora quando eri fk Ho fatto solo esplodere un barile Adesso si ma altre volte no Vabbè Non si può spaccare sto vetro Che palle no Oh che cazzo Bruh Stavo guardando Troio Eh mi voglia Ho ricaricato un proie Un mul proie Yeah Eh giusto si Nando mul di bro Non stai zitto bambino di merda Zucchi coglione Allora Ring 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 Oh Oh Sì Ciao Oh Sperti mi riprendere le mie cose No Sui si Oh Oh Christian Thou art very much Uff porco di quel OOOH Piro il cappellone coglione Ma chi è che pottana Ma guardate One minute to win One minute to one minute One minute left to have one minute Oddio riot Ma che range ha il Eeeh La lama Eh Trai un gran Di gook Che non mi ha fustarei Quando la uso io Ehm Trai Eh che ne so Io non sto hackando Comunque Cioè Oh no no Ho più la la Oh Voi Vabbè Sticazzi Vincere la set Vedo Ho usato la lama Fino adesso E' fatto un busto di case Posso pre-usare anche Il battle rai Victory Ora mi uccidano Che fallito Adesso rimettiamo Quell'armi a casa No Ok però Fiforoll Ok Bella Ci è andata Perciò Non piacere Allora Che cazzo è slim Slim lampo C'ho un tizio qua Slim lampo Non ho mai visto Vabbè L'ho invitato a cazzo di cane No l'ho invitato a cazzo di cane Magari si entra Ma dove? Su 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 Arum si In un frame Da caso Ricordo Ops Allora Notic Vuoi immaginare se ci fa Oh è entrato È entrato Cosa Ok fra E' uscito Questo ciccione Bastardo Che cicciacano Allora Ma dove cazzo è Dio boia Non è rientrato Non è rientrato Cambio mappa Mica c'è così tanto Vento fresco Che sembra far freddo Adesso C'è tanto ferro No ho detto C'è così tanto Vento fresco Che sembra far freddo E allora Non fare l'handicappato Del cazzo Oh Dio Non so che fa i pompini Si sente Che bello Il microstattering Della ruota Lol Imaging running Oh she shall You're No Non mi ha dato il corpo corpo Che zingalata Madonna Oddio Ho preso qualcosa Tipo Oddio Che sta iniziando Alla gare Porca puttana Anche il mio pc In sta mappa Va un po' Di FBS Una cosa è la gare Di fbs Una cosa è la gare Di connessione Sulla live Prima ora Che era di FBS Non so Mi andava Adesso Dicendo E anche a me Adesso Mi sta tornando Come prima Non così tanto Ma un po' No Ma perché Mi vedono sembrarmi Di mezzo Oh Ship Shower Chi hai i neri Eh più chiarine Cosa No Io ho capito più chiarine Ti giuro Ma ho saltato E io fra Devi saltare per bene Devi saltare bene Pezzo di me Fai il canguro Devi saltare Con la spaziatrice La barra spaziatrice Cos'è? Esatto La barra spaziatrice Spazia la Dati di formato No La barra spaziatrice Con la gente Nell'inferno Nel paradiso Con i morti I morti Blowjobari Aspetta che Aspetta Sei proprio simpatico Fra Ecco che Ehm Il vino ti lo piace Fa Oh ma che succede Che rumore Dio Eh vabbè Uno sta Oh 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 Che ingoia Cazzo Mi ha dato anche un'arma Utile per Che falle Finalmente I have the laser Cosa è sopravvissuto Si è sopravvissuto? Si Ti vedo qua sopra You fucking G Ok G Tu sei G Ah tu sei G Tuo padre G Si ritardate No no Io sono G Inizio con le G Eh Con il J Semmai Eh Ma stai zitto Fallito di merda Bim 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 Adoro sta cazzo Di arma Madonna Fa alimentare Che cazzo vuol dire Oh 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 Ho sentito qualcosa Di brutto Eh Sword Una zanzara Una zanzara No Vi ad ex che faceva i pompini Ecco lo l'ho uccise Ah Ok Blowjob Gatex blowjob detector Eh sì perché quando vede un cazzo lo deve succhiare col suo Con l'aiuto del suo detector No Sì fra No Sì fra that's the drill No G dai No io sono G ma tu sei J Sì 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 No No Oh no Guardalo Dio spadaccino Potevo ucciderti senza lanciare la granata come pompa ma non so la mia testina testolina autistica mi ha detto di fare così va beh Eh Dio microcefalo Ciccina Ciccina Sei zitto Fallito 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 Zitto Dove sei zitto? Mamma mia che succhia palle Oh deve ricaricare Ah hit il cazzo hit il cazzo Oddio sbingulino Guarda cosa ho trovato Sbinguli Sì fra sbingulino No No F raga Beh vabbè Cos'è questo? Ah ok questo qua Sbinguli Oh nice Oh sento delle esplose Oh sento delle esplose in Igeri Dio inumano Spontinator se è attivato Ah you're dead Mi sembra che tipo in spazi come questo ci capisce di meno chi li sta sparando Perché come la flash spende sta cosa Uno sbingulino Dai Oh ok Oddio sbingulino Ok ho già capito il titolo della prossima live Sì sa Mi piace proprio cagare Oh 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 Fra dio raspu Rasputin Ok sbingulino Dio Ma cosa è un Oh, grazie per i missili, Fra! Pigliatelo in bocca! DJ, piglia in culo. Qual è tornato? Io una volta avevo un... Per un periodo mi ero messo DJ Masturbale invece... Oddio! Dio vergognoso! Dove? Cos'è che hai detto? Dio vergognoso, bravo. Eh, non c'è ancora tua madre. Eh, non è ancora tornato tua madre, Lord. Esatto. Ma lo senti, guarda, quando... Epico! Guarda sto J Parola! Come sta! Minzulino! Dio! Five minuti! Remain! No! No! Di me non lo accetto questo! Sì! Ah! C'è il bilatto in culato! Cristo è Gesù! Cristo monomen... Monomen... Cresciato nel gioco! Come ti ha cresciato il gioco, berberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber mi ha fatto cresciare tra io non è un po io sì dopo che mi ha ucciso in cazzi tu e mica volar ma crash l'odio pingu pingu celeberrimo firo di filo d'olio no che schifo e guarda che peggio di scofferti uno zombie alla fine no vabbè non è tanto peggio perché tanto alla fine ti possiede comunque no il food è molto peggio molto molto più schifo di uno zombie e io ho capito ma essendo parassita comunque ti possiede quindi certi nel caso dovresti mettere quattro preservativi per proteggerti da quella roba come 4 preservativi dovresti metterti per proteggerti molto perché va poco poco più avanti e già ti trova un po di sottovivente per quindi cazzo ne so lo scopo la tuta in latte di oscina allora si scopo con la tuta in latex queste bestie di me probabilmente riesce anche a tagliarla che palle allora anche perché lì i flood hanno delle spore che con le quali ti possono infettare vabbè ma io sono i zombie allora no 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 i flood si ma gli altri cosi no perché stiamo parlando di sta merda perché il colpione lì ha detto flatofilo e ti hai detto sono un tipo di zombie qualcosa non so bene cosa fosse sei un colpione che hai preso di merda alla fine tutto si 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 è un colpione che hai preso di merda è vero è un fallito ragazzi oh shit dove cazzo è andato è andato lì il j parol oh shit io beh lol f porca di quella madonna vero verissimo true statement true statement è forno è mancato i minuti e finisca la partita è sponato qua no peccato vabbè prendo la pistola vabbè ma no 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 pensavo si sentita la voce di mia madre dalle scale no eh signori diciamo che sapere quando c'è quando c'è mia madre è utile la mia sopravvivenza ok oh jeez ho sentito qualcosa di bruttino oh cumo cosa hai visto un uomo nudo? eh cumi? eh però hai detto cumo e sappiamo tutti che sei gay quindi no hai detto oh jeez ah no jeez ho perdito di jesus ah ok 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 ho confuso la sporra con il nostro segno no jeez quella non con la z con la vabbè ciò sta hai capito ehm oh oh fucko oh 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 i'm asking this English for myself oh 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 Che cazzo di Dio voglio Eh, fa che. Oh, farron Dio, fallo supremo Ah, il taglio! Pallottola di... di negozi per cani Eh, pallottola di negozi per cani Sì, sia il vero in assoluto Cosa è la pallottola per i cani? La pallottola per i negozi dei cani, hai detto? Esatto E negozi per i cani, però, molto spesso contengono gente molto brutta Dico... Molto gente che ha cani e sono con... Quindi, insomma, è un posto abbastanza non-safe Entra di nuovo, Gabrex Ma dove facciamo il matchmaking? Ok L'ultima partita, andiamo a fare matchm... Matchmaga Criva Magana? Che voglio? Matchmaga Come potete sentire, Matt è quello che provo a fare i suoni dei pompini per esperienza Ma chi è tua mamma? No a te Ma stai zitto, fallito Fallitone Fallito Fallito Ok, basta Ehm... Così che... Eh sì, volevo dire Non cercate mai... Per chi guarderà sta live Non cercate mai cakemap.ga Mai Cioè, non è che ha a che fare con il mio cake lord Cioè, non ha a fare niente con cake lord, però... Qualcosa mi dice che ripetendolo con te è un contro producente per questa causa, ecco Quello è l'obiettivo Quello è l'obiettivo Ehm... 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 Tu sei così stupido da cascarci, infatti No, non ci siamo cascati Ehm... Ehm... Wow wow Baci perugino Baci perugino Baci perugino Baci perugino Guardala Cosa, cosa Cosa devo andare Non so, dici una me stessa Non ti dà fastidio? Ma che cazzo? Poi te la punta negli occhiali Oddio Vabbè... Siamo pronti? Avvia il... Aspetta, aspetta Tu vai? No Ok Eh no, sono in live Non puoi accendere la tv Sono in live, Cristo Dio, non puoi Ti sentirà tutto di un fenomeno da baraccone Ah no No Che carina Buonanotte Stai col telefono Telefono satanato Di gaso Telefono satanato A cucco figlio Il santuario delle bestemmie Anzi no, voglio andare in quelle della città Aspetta Questo Ok Andiamo Così Oppure vogliamo fare free-for-roll o volete stare in squadra? Tale e quale Scegliete voi Eh... Stiamo in squadra Allora Mi basta che è casuale No Allora facciamo free-for-roll casuale No Eh... 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 Fra... Fra momento Questa è della campagna Cioè È un po' modificata Gay break Gay break Che cazzo mi stai... Su un coglione Siamo in squadra Ah... Coglione adesso siamo a meno 2 Figlio di tuo figlio Stronzo rotto in culo Dio merda Aspetta Adesso Allora mi fanno uccidere Ahahah Che cosa... Ahahah Ok dai uccidetemi Così almeno andate a zero Dove siete fagottini? Fagottini Comunque vedi È tutto liscio qua Eh... Si vedrà bene nella live Noi problemi se non parlare anche di internet Vabbè quando avrò il pc nuovo Non mi lagrà neanche lì Quindi ok Cioè neanche su anniversary Oh son dietro di voi I test di merda Qua Shipsharrotra Qua Mongoloids Ah non si può dire Bene Oh ok Ora un'altra volta Mmm Che i brexti Che i brexti Merda Che i brexti merda Oh... approvo Dove siete di osquiffer? Ah ecco Ah questa non mi ricordo di esserci sento mai Beh infatti nuova E questo qua è... Dicevo anch'io È la mappa... È tipo i soborghi fra Un po' modificato Questa è quella dove ci sono Dove c'è il cartello del warthog di go d'oro No è la seconda missione quando... Cadi... Per un mattone ha fatto un bel volo, eh, quello di I soborghi, la seconda missione, i soborghi Metropolis No, no, è un'opera Eh, è un'opera Sì, i soborghi si chiama Te l'ho detto 300 volte Qua sono Vi ho anche regalato Un D-Ghost Reborn Gables Però è rimasto a almeno due lo stesso Che è fallito Vabbè, però comunque Quei vengono aggiunte Sì Oh, shisha Sì Cosa ho trovato Bello Ring Ninja Il problema è uno adesso, non ho più granada del plasma Sì, sa se se è quello originale, devo vederlo Si chiama Sì, che c'è suo, allo originale Figata Cazzo Ovvio Non vedo l'altro di provarla lì Sarò uguale Eh, lo so, però comunque sulla Xbox, dai, è bellino, carino Sborrino, soprattutto Sì, esatto Poi ti dirò che cosa significa Cosa? Caglino Cavino? Car... Car... Carlino? Te lo dirò, te lo dirò successivamente quando stiamo... Sardinian? Esatto Ah, bello Very happy cagliari... Cagliari... Very happy cagliari... Very cagliari-tan... Axe... Cioè... Sì, sì, sono uno scudo epico, epico... Succhia Sick Eat my core No, scherzo, no, 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 era una battuta, Fra, no, 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 stai fermo, no, 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 no Hey, Brex, è il tuo momento Eh, infatti è lui che sta succhiando Oh, lancerà, ding, 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 oh Figlio di figlio Figlio delle figlie Succhia, cazzo, pneumatico Ma, parli di te stesso, Fra? No, di te, Fra No, Fra, io non succhiato di Firenze, sua tranquilla Cazzo, allora mi sa che stavo parlando di Gabrex, per sbaglio Eh, sì, Fra, eh, certo Eh, è Gabrex, lui, sempre Quello che... Determine, porco dio Ma questa mappa è sicuro che è per due players Cioè, almeno due, no, non credo E questo è per quattro minimo È gigantesca, cazzo Eh, infatti, ce l'ho scritto che era per due Ce l'ho scritto che era per due Boh Secondo me, con qualche modalità Tipo, non di quelle normali Si riesce a fare qualcosa di divertente Sì, tipo una sparatoria, una sparatoria qua Sai che figo? Già Tipo i Covenant che invadono qua Perché questo è New Mombasa, ora che ci penso È Old Mombasa, New Mombasa è tutta tecnologica È su Old Mombasa che si va a sua luce Come... Ti ricordi altre DSD? Eh Quella è New Mombasa Questa è Old Mombasa Cazzo dici? Eia Sembra la stessa In Allo 2 c'è scritto New Mombasa, Dio scemo Come? Vedo, non mi ricordo Devo controllare meglio dopo Allo 2 district ma E' una forca troia de cristo Dio maledetto Che questa qua si entrabbe New Mombasa Perchè dicono che... Perchè dicono quando guardi il filmato di Allo 2 Cadono le capsule Ci sono quelle lì di... Di ODSD Ah, io ero lì le granate Bleh Bleh Comunque sì, ho una sparatoria oppure che ne so Magari una qualità corsa e tipo diventa... Tipo quella di Todero Di Double Dash Non so se hai giocato a Double Dash Quello per il GameCube No, però non ho mai avuto il GameCube Padly Ah, beh, manco io E allora succhia Eh, vabbè Però ho trattato un casino con gli emulatori da piccolo Per quello lo conosco E anche E poi vabbè La Wii Mega modificata con le cose peniche Come piaceva che è presa C'è appunto C'è Il tracciato che Forse Forse era quello di Cosa di Tod Ed è praticamente appunto in città Solo che C'è appunto C'è appunto Non è più Tipo Secondo me una modalità Corsa con questa Ci sta Oh Shisharro Cos'ho trovato Sono che per poter accomodare La Firefly Dovrebbero modificarlo un bel po' Allo Devo fare una jump C'è Devo fare una grenade jump Qua però Facciamo sta grenade jump Uh No Ah no C'è il muro invisibile Scherzavo Magari Facevo come i Jekyll Uh Sto dove la Ma Di Di Fanno una mod di questa Mappa E tutte le macchine O queste blu Che si trovano Sono guidabili Sì Chardiette Sì Chardiette Cris No No Muoviti Ah Eccoti Valeri Dai Dove cazzo si Credo di sapere dov'è Dai Dio sciamano Dove cazzo si Io credo di averti visto Più volte Qua Oh Bello Guardate che guida Signore Ah ti ho visto anche io Allora Ciao Ci sto mettendo così tanto A cercarvi che il mio Overshield sta sparendo Beh che bello Il piano funziona Guarda Guarda Io sono De puta Lol Potevi continuare a spararmi E uccidermi Però ti sei fermato Eh fra Si era caputato Comunque il razzo Mi uccideva Beh però Almeno mi uccidevi pure Invece di Morire inutilmente Schifo Schifo Così Così Ok Dio Ok Dio per romopobia Dio tobia Cosa c'entra il mio cane Ah perché si chiama Tobia Si Un cane di nome Tobia E l'altro si chiama Non posso dirlo Ciuffo No No non è un covalet Perché non puoi dirlo Cosa mi dice Che è un nome Non posso dirlo In live Il nome Beh vabbè Lo sapremo Nell'episodio Boss E' un cantante italiano C'è Reputato C'è Poi Non mi interessa Oh no no Il controller Non va Ok Non mi dire Che l'ha chiamato Cici D'Alessio No che schifo No sono Indicappato Sei troppo lento Ok Sarà Corri Indicappato Forse Non è una Lento Indicappato Esatto Yeah Non l'ho preso Non l'ho preso Vero Eh Tra siamo in live Non voglio sentire I bambini di merda Che fanno casino Simone vai via Simone vai via Bellino come bisogna Che glielo dica Di mandarli via Sì sì Perché è talmente Indicappato e scemmo Che questo non ci arriva Da solo Deve dire qualcuno Di dirgli ai suoi fratelli Che devono andare Non riesco neanche a parlare Madonna No No Sì Comunque sta mappa Mi piace molto Non l'abbiamo mai fatta Sì sì Molto bella Mai fatta Quindi Dovremmo fare Una tier list Delle nostre mappe Di allo Abbandono S Solo per me però Qual era abbandono Che non La lì nella neve Dovemmo arrivati Sempre che è piccola E c'è Tipo Si può cadere giù Sì È il sito Quello lì Dove studiamo No vabbè Un solido B tier Una B Ok Sì dai È solida Solida Solo che è molto Piccola Eh grazie al cazzo Prossimo in tre Ci sarebbe più gente Quando Giochiamo Perché è proprio Stretta Proprio Una cosa È una mappa Spicola Ma larga Come Adesso Potrebbe essere Un po' Battle Creek Forse Perché È un po' più aperta Invece Lockout La vedo Piuttosto Un buco di culo Minorenne Dai Un buco di culo Minorenne Sì perché Di norma Dovrebbe essere Abbastanza Non si potrebbe Dire Credo Fra Io sono ancora Minorenne Quindi E anche Gabrex Lo è Dai È safe Dai Io non sono Minorenne Questo È vero L'hai detto anche tu Allora niente Fra Siamo Dipendente Di Matt Ma Forse 19 anni Dove non Trovarli I restanti Gli passerò In galera Dio Quinto Tra hai lanciato la granata Quell'altra granata Non so quanto era Furda Questa cosa Oh no scopo Double penetration Double penetration SILI! No, F, vabbè. Bellino come le uniche kill che ha fatto Gabriel sono quelle dove mi ha fatto fuori lo stronzo. Eh, ti ho detto che lui è meno due. Eh, ho visto, sì sì. Ma quella è una macchia nel culettino, però. Nel culettino? Una macchia nel culettino? No, no! La cosa bellina è che c'è la live di come test di impugnanza che io non sto dicendo quello che tu dici che io abbia detto. Eh, io ogni tanto vi sento male, vabbè. Eh, vabbè. No, ti ho detto solettino. Cringe, no? Cringe! Amico! You wanna be cringe! Buonasera e benvenuti a Checco Cringe con Antonio Callao. Che è quello che si avvicina di più ad uno campano. Sì, è napoletano inside lui. Tu sei bastiani, c'è anche perché ti piace dire la parola cringe. No, non voglio avere... No, non voglio avere i meme di merda, no, 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 no. Non ho i meme di merda, io no. No, no, i meme di merda, io no. Non ho i meme di merda, tranquillo, non sono abbastanza. Però io sono anche un aspirante... Pompinaro. Come cosa? Un aspirante pompinaro. Come il cazzo si chiama? Era troppo tardi No, come cazzo si chiama Cristino di... Cristino d'avena Fra, Fra, sono qua Ah Ehi, ciao Fra Ciao Vinco de puta No, come cazzo si chiama? Cazzo Testa, funziona, cazzo C'è la cannavacciuolo, Bastianich e... Borghese? Sì, ecco, Alessandro Borghese, porca puttana, testa di p***a Assesinato multiple Comunque sì, io sono borghese, quindi sì Lo scenario è praticamente fatto Che fallito, muore sempre Aveva munizioni per il cicchino e per il pompa, bello Oh, Shripsa 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 Shripss Shripsa Dio mascio, Dio Dio mascellina Dio campo Da calcio rom Oh, drifter Merga, mi sono morso l'interno della guancia, cazzo Ah, coglioni Sto driftando in the city Cruising auto Ah, Dio auto, oma Deus Ex Machina becomes your answer Ma è bello col gioco, non l'ho mai cagato, cioè non l'ho mai visto Deus Ex, guarda, ne ho uno Non mi ricordo quale, però ne ho uno di Deus Ex Non l'ho mai provato, ma dove siete Cristo? Sto girando in tutta la mappa da ore Dunque simone è bello Uh, Freddy, se facessero una moda identsic Ehm, c'era negli altri Freddy, non sarebbe una cattiva idea, questo è molto grande Da, lo quattro in poi, c'è Perché ci sono tipo le moddate Aspetta, quindi c'è la modalità di gioco identsic? Simone, Freddy, il pesce Eh, comunque no, non c'è Ah Che suolo 4 quando uscirà è tutto Ehi, ma dico appunto che suolo 4 C'era la game mode già fatta? Per quello? Ah, no, già fatta no Ah, non le fanno queste cose Cioè, della serie Non devi tipo moddare i file del gioco Nooo, Ben Ah, no, no, ok Ben No, perché Se la modalità del gioco non è che Oddio che urlo che ha tirato Cioè, la modalità del gioco ha detto che non è che mi hanno avvolto Minchè, io non vedo l'ora di farmi la campagna di ODST sul PC Guarda, non hai idea Cosa vuoi farti? Autopompino Mmm, la campagna di ODST di un porco sul PC Ti sto prendendo per il culo, Fra, io capisco Vabbè, sei autistico, dai, chissà No, non sono mica Gabrex Bullizzato nel cuore E anche nel culo No cuore Oh, shisha Eh, mo' camante Oh, finalmente ce l'ha fatta ad uccidermi Ora è a meno uno Ahahahah Ahahah Shisha 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 Perto ci sarà qualche albanese che nei commenti scriverà Ma mia vostra pronuncia la raggiunta 99 su 100 si lo diranno a qualcuno sicuramente Poi devo anche cercare di vedere come Come, ci scrive se tipo Google Translate lo riesce a dire Sei basito? Ok, è arrivata mia madre Sì Finne della pacchia Oddio Gesù Cristo ragamma Comeaaaa No come a me Volevo dire salve No dai scherzo, no, no, don't cry please No no, please don't cry, don't cry Che cazzo Ape cry Eat cock, cosa? Ape cry Ah Amico, you can eat my cock if you want I am geno I am GD Dio Swiffer, fallito Dio Campo No, guarda Aspè, mi muto un attimo Sto figlio di suo figlio Cito Ico del Swifo Vestardo Suino Eccomi Fuzz Guarda la forza Dio L'ho staccato L'ho staccato L'ho staccato L'ho staccato L'ho staccato E' fallito E' Tto E' Tto Dio Non lo so E' basta Com'è è la presa in culo ho visto un ghost no mi ha superato ti dico prima che sono in diretta ma cosa veleno no cazzo era ci sono anche i surimi ci sono che non è che mangio solo le uova visto che cazzo non vengo a decidere sono in live una donna le donne raga posatevi che cringe roba da boomer raga boomer oppure mid cosa medio orientale boomer di boomer dicono non sposatevi quindi boomer ma cosa vuole la torre gigante in cielo la torre è un'antenna non sbaglio la torre non mi ricordo chiaro però la vedrai varie volte ah è lo space elevator si ah si era uno space elevator alla fine tipo ma ti porta nella stazione spaziale che cazzo è sì di solito ci sono delle navi che sono in orbita proprio lì in quel punto è l'utilizzo era uno o di spie che è crollata non so se in new mombasa è crollata ma anche in alo 5 se non sbaglio si vede che crollava però sì quella della scultura è troppo c'è non è un'antenna per niente è che cma punto ga io sono no 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 esatto è l'interlet provider ufficiale di che punto ga oddio ci vuole così ci vuole una roba così tanto tecnologica l'hai preso l'hai preso in culo oddio che cazzo era bro l'hai preso in culo preso in culo ai gamba di legno dio sigla di che prima punto ga il segreto di che ma punto ga non la sigla dunque ma punto secondo me il video di che punto ga continuava tipo il video di che come le vogliono così perché ma chi che sta guardando al live non si muore non la sta più per tanto perché stavo guardando la nostra live sì ragazzuoli l'hai preso minchia che connessione cagata tutti quanti no ecco adesso top è tornata meglio che cagata scurata connessione cagata scurata ok un un ciao ciao tu corsa eccomi sono potenzialmente razzista ma no grazie coglione quali ah al checma.ca no no amore mi rompo il caso tanto non vorrei iniziare la dieta finchè non la inizio faccio il cazzo che voglio quando qualcuno mi dice voglio fare la dieta la vado a fare voglio fare la dieta no qualcuno che sia a mia madre tipo ma dovevo iniziare già da tipo oggi che è il primo oggi è il primo di agosto no? o il 2? no è il terzo fra come il terzo? si è il 3 agosto dovevo iniziare la dieta l'altro ieri esatto mi vede con quello entusiasmo la fro è il tempo di bestemmia il terzo il terzo il terzo il terzo ma non è il 5 kill ti sei suicidato? no per sbaglio l'ho investito sto coglione mi è venuto in mezzo al culo che fallito si lo so è un testo di effe oh finalmente ha fatto una kill che hai presto è la sua seconda in realtà no è la terza si ma in senso di punteggio che è finalmente il suo primo film aaaaaah hijo de tu putt ho sentito di un figuo bello checma.checma oh ammazzati coglione non sarò mai con il fisco dell'inchiato citta.gma vs chad kecma io secondo me se spiego il video di kecma.ga qua in live dipartano secondo me e secondo voi mi bannano il nuovo paletto no, è solo nominato beh non è neanche un tizio che ha un cazzo duro che si svita lì penso che mi bannano oh boh vabbè tu non l'ho già detto ah ecco mi dissocio da qualsiasi cosa che sia sto vai affanculo coglione ma guarda come l'acca ha picchiato l'aria e mi ha ucciso sto turchi turchino turchese turchi perché sei un fagotto eh vabbè eh vabbè guarda come l'acca guarda come l'acca ma che stai scappando mentre che cosa dobbiamo mangiare per cielo eh infatti sto bestemmiando anch'io con la mia tipa adesso per quello cioè sto bestemmiando non è che sto discutendo su cosa mangiare sto bestemmiando con la mia tipa per cosa mangiare sì oh shi e siccome bestemmia è un codice strano per capire che cosa conterrà il cibo sborda 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 per game ovviamente oh shi e vabbè ingoia mi so che come finiamo questa allora stacca come? dopo che finiamo questa allora stacco ah tu stacchi? eh dopo questa si ah quindi non torni più F nere 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 ma poi ora facciamo una stessa cioè no torni o non torni? no boh vedo se se dopo torno vedo un po' se se... si vabbè allora io eee l'inutilissimo per no scherzo io e Grandrix facciamo una 4v4 se si avrebbe di se sono le su 2nd ah ah piglialo no scherzo non lo farò mai va buono allora bye bye eh 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 Vabbè Basta prendere la wallera di dopo Basta pezzo di me Ti fracasso il cranio Quando arrivi qui No Fai il piglia in culo Bravo No Odio Vabbè Dimmi che ha lo 2 ti prego No Odio sta merda Non sono Faccio schifo nel multiplayer del 3 Non so perché Nel 2 negli altri distruggo le mamme però Qua nel 3 faccio caccare Nano 117 Ok fra Che vuoi Oddio sta BNB 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 Hotel Trivago Si un cazzo di cancro Oddio Oddio Nora Oddio 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 Guarda Sono campeonati Va bene Già fa cagare Ma Sto partito Ho già capito Quindi dobbiamo essere in tutte le partite Che fanno cagare Dio voi Guarda lì Dio cazzo To Frizzino Pure Perché il mio cazzo di pc Non regge la live Sentite il bug audio? Che schifo Madonna Fa legname Guarda Guarda Dio cancro C'è Un Trasenso L'ho appena arrivato Di To Neanche una kill Sono riuscito a fare Una Oh Ora si Guarda Il pezzo Di merda Di merda E Tu Sfistaro E no Però Faffanculo Sfistaro Sfistaro Tu vuoi Ehm 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 No 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 Chegma 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 Ma Ma Vaffanculo Sto pigliacazzi Mi flaggeranno il video per eccessiva scurilità Quando c'è gente che manda avanti un canale a bestemmi però vabbè Ehm Staglio Ehm Vabbè E non è morto Io porco Io sono ultimo E no come il rapper di merda per fortuna Ehm Che schien di te Ehm Porco dio Ti ho detto che nel 3 faccio cagare Guarda di sti succhiaccazzi Oddio Succhi No vabbè Porco dio Volevo ucciderni di più Quella giornata che ve lo fa Poi vabbè Oli Guarda dio cani Guarda porcoli Ehm Che c'è un 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 おお Each 4 Ora ho fatto 4 kill ítulo Sono primo in squadra per quanto facciamo cagare tutti qua. Madonna, che schifo. Guarda lì il failure. Io marionetta. Ma guarda, ti ho canto, ho tutti con le granate del cazzo. Non mi mancavano i cancri di guarda, erano i giocati al corpo di... Non c'era lasciato vocale. Boh, non mi ricordo, sì, gente, oriamo, non mi ricordo se è pube. Guarda, sto spoglione del cazzo. Non mi ricordo se è global. Mi conosci più prima di ciò con 6 kill. Lo so. Vedo continuamente la lista. Sti falliti, Diofano. Mi dice quel cecchino. Oh, finalmente una kill. No, allora. Sì, forse so cosa farò. Oh, ok, questo qua mi farà fare un po' di killer, spero. No, no, però sono estremamente vicino a loro. Ecco, ho bisogno che qualche deficiente mi copra. No, però che palle. Sei morto. Sì. Vabbè. No, 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 no. Vaffanculo, i figli dei puttana, però. Quali di generazione... Non di generazione... Vabbè, vaffanculo, non scapparò. Che schifo. Non so perché nel 3 faccio così cagare. Dovremmo mettere Avatar Lancia le granate Lancia le granate Cosa sono fatto assolutamente questo Bastardo Vabbè ho ucciso il coglione Ci siamo sotto di 15 Ma guarda sono spawnato davanti ai nemici ma che cazzo è? Odio Eh io sono qua che... Io cano guarda sti bastardi del cazzo Questa roba devo usarla quando sono vicino Ma il problema è che non riuscirò mai ad andare vicino a loro Perché i figli di puttana Gancano da tutti e... Se sto coglione di merda si levasse dal cazzo Oh l'ho ucciso in post game ma dai Che cagata Vabbò bella raga Mi son rotto il cazzo di far live per oggi Perché poi non so che fare E non ho voglia di bestemmiare troppo Quindi live E... Boh Dio bono Oh hai antena Dio bonomo Dicevo E niente ci si vede alla... Sì ma ovviamente Dio bianni Dio A relazione Dio